Buongiorno, oggi impareremo a danzare sopra la musica meravigliosa di un waltzer. Si chiama il waltzer del bel Danubio blu. Ho fatto un disegno per voi. Vedete? Questo è il waltzer di una principessa e di un principe che stanno ballando sopra le note di questa musica. L'autore che scrisse questa musica si chiama Johann Strauss ed era austriaco di tanti tanti anni fa. E scrisse questa musica per festeggiare a sui tempi una festa che era il carnevale viennese. E nonostante non fosse un buon periodo per l'Austria in quegli anni, lui inneggiava a gioire e danzare sopra questa musica. La stessa musica l'avrete già sentita perché per il concerto di Capodanno, o meglio il concerto del primo dell'anno, questa musica viene suonata e ballata dal corpo di ballo di Vienna, del teatro dell'Opera di Vienna. Quindi, ve lo faccio sentire, anche voi potrete ballare insieme al principe e la principessa, muovendovi nel numero 1 del battito e stando fermi al numero 2 e 3. Quindi verrà così, prendete un compagno o fate semplicemente finta che ci sia qualcuno a ballare e ballate questo. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A 1 fatemi un passettino, a 2 e 3 state fermi. Il tema del balzer è questo. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ecco, questo è il tema del balzer. Prima di sentire questo, sentirete una piccola introduzione con un suono fisso che si chiama tremolo ed è questo. E la mano sinistra inizierà già a fare il tema del balzer. Buon ascolto, ballate insieme a me. Noi Grazie a tutti. Andate a ballare. Andate a ballare. Allora, oltre a aver ballato questa musica, potete anche vedere dei cartoni animati che vi ho messo sotto qui ai commenti. Il sito di tre cartoni animati, uno più carino dell'altro. Sentite questa musica come sottofondo e con la vostra fantasia immaginate di essere dentro il cartone animato. Sono tutti e tre molto carini. Io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e a presto.